Ciao a tutti e ben ritrovati, io sono Criminal Motive e oggi vi porto in un altro viaggio nella mente criminale. Il caso di cui vi parlerò oggi è un caso terribile, secondo me, è il caso di uno dei peggiori, credo, criminali della storia degli Stati Uniti e lo dico a ragion veduta perché sono esistiti Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, sono esistiti tanti tipi di serial killer, ma probabilmente questo di cui sto per parlarvi è il peggiore. Per riuscire a capire la storia di cui vi parlerò vi devo fare qualche cenno sui servizi segreti statunitensi. Gli USS, quindi i United States Secret Services, sono nati nel 1865 con uno scopo molto diverso rispetto a spionaggio contro spionaggio che tutti noi vorremmo pensare o siamo abituati a pensare. In realtà i servizi segreti statunitensi nascono principalmente come agenzia federale che deve monitorare sui reati particolarmente dannosi per lo Stato, tra cui anche i reati dei falsari e i reati finanziari. Questo perché, ad esempio, nell'ultimo periodo della guerra civile americana, nell'ultima guerra civile americana, un terzo della moneta circolante era falsa. Immaginate quindi quale danno poteva esserci in quel preciso momento storico nell'economia statunitense. Rendetevi conto che i reati finanziari sono dei reati veramente dannosi per la nostra società, non solo per i singoli soggetti che vengono colpiti, ma proprio per la nostra società, ma che troppo spesso non ne parliamo. E quindi vi dicevo, questi servizi segreti nascono quindi principalmente con questo compito. La squadra era principalmente formata da 13 persone all'incirca negli anni 70-80, che è il periodo di cui maggiormente ci interessa. E questi 13 soggetti avevano il compito di monitorare e di sorvegliare soprattutto la circolazione della moneta falsa. Il processo dei falsari, di coloro che creavano le monete, le banconote false, era molto diverso rispetto a quello che utilizziamo, che si può utilizzare oggi. Mettiamola così, perché se no sembra che io stampi banconote false in casa. Il processo all'epoca era molto diverso, perché serviva un fotografo molto bravo che riuscisse a fotografare la banconota, riuscire a estrapolare il negativo, imprimerlo su una lastra, procedere alla stampa e in seguito ritagliare le banconote. Ovviamente c'erano i problemi degli inchiostri, delle procedure da seguire con i vari strati di inchiostro da eseguire e via dicendo. Non mi soffermo su questo. Mi soffermo però sul fatto che era difficile per una persona riuscire a fare tutto il procedimento da sola. Difatti spesso era un'organizzazione criminale a fare tutto questo procedimento, soprattutto perché servivano diverse figure, anche molto diverse tra loro, per quanto riguarda i compiti, le conoscenze e le competenze. Ma perché ci interessano i servizi segreti? Perché vi ho introdotto il tema dei servizi segreti americani? Perché alla fine degli anni 70 viene segnalata la presenza di un falsario che riesce a smerciare banconote da 20 dollari false in circa 38 o 44 stati degli Stati Uniti d'America. Come riesce? Questo soggetto riesce a girare di stato in stato, di centro commerciale in centro commerciale, smerciando le banconote da 20 dollari false. 20 dollari perché è la banconota più utilizzata, da meno nell'occhio, nessuno si mette a controllarla e ovviamente è più facile riuscire a smerciarla, ad esempio in un negozio, come può essere quello di abbigliamento, in un negozio di abbigliamento. E quindi questo soggetto riesce a smerciare queste banconote da 20 dollari in vari centri commerciali, centri commerciali che si chiamano in americano mall. Da qui il soprannome del soggetto fino alla sua cattura, che era il mall passer, il passante dei centri commerciali. Come agiva questo soggetto? Arrivava all'interno del centro commerciale e iniziava a girarsi, senza destare assolutamente alcun sospetto perché era un soggetto ben vestito, carismatico, che non attirava l'attenzione. Entrava nei singoli negozi, considerate che in media ce ne erano 50 circa in un centro commerciale in America, quindi entra in ogni singolo negozio, acquista oggetti, articoli del valore di un dollaro, un dollaro e mezzo, due dollari, si fa dare il resto e in questo modo ha lavato una banconota da 20 dollari. Colpisce tutti i centri commerciali, riesce a girare in modo così diversificato da non essere mai catturato, non riescono mai a prevedere le sue mosse, fino a quando a un certo punto, nel maggio del 1983, questo mall passer, dopo aver fatto circa 130.000 dollari di buco con la moneta falsa, quindi immaginate anche quanti introiti in realtà ha avuto il soggetto, viene segnalata la sua presenza nel Tennessee. Dall'ultima location nota di questo soggetto che era nel Tennessee, si cerca di fare quello che è una sorta di geographical profiling, ma molto da dilettanti, perché all'epoca non era ancora nata l'idea per cui un soggetto quando si muove nello spazio e nel tempo decide sempre di scegliere le vie che conosce, decide di seguire un procedimento mentale di un determinato tipo, quindi cercano praticamente di tirare una monetina e di sperare di riuscire a farcela, più o meno mettiamola così. Capiscono che il soggetto, dopo aver colpito il centro commerciale, attende alcuni giorni, si comporta in determinati modi e riescono a prevedere che il centro commerciale che avrebbe colpito successivamente sarebbe stato un centro commerciale a Knoxville, nel Tennessee sempre. I servizi segreti, quindi il 25 maggio del 1983, si recano all'interno di questo centro commerciale, si recano all'interno di ogni negozio, danno un volantino col fatto che è ricercato questo soggetto, danno un volantino con l'identikit del soggetto. Lo danno a tutte le commesse, a tutti i commessi, a tutte le cassiere e cassieri, nella speranza che ricevano ovviamente in tempo la segnalazione, perché un'altra cosa curiosa di questo soggetto è che colpiva i centri commerciali che avevano più uscite da molti lati, nel senso solitamente il centro commerciale ha due, massimo tre uscite. Lui cercava di scegliere centri commerciali con anche tre, quattro o cinque uscite per fare in modo di riuscire a far perdere le sue tracce con queste banconote perché esisteva già il reato di immissione in circolazione di moneta falsa. Quindi lui riusciva ad essere molto furbo. Arriva però questo 25 maggio del 1983 in cui il soggetto si reca esattamente come per le previsioni dei servizi segreti in questo centro commerciale a Knoxville. Entra dentro, si reca nel negozio di abbigliamento, cerca di acquistare un paio di calzini per pochissimi soldi, dà questa banconota da 20 dollari alla cassiera e lì la cassiera si illumina e immediatamente riesce a riflettere sul fatto che qualcosa non torna in questo soggetto che compra solo un paio di calzini, pagando però con una banconota da 20 dollari. In quel momento offre comunque, dà il resto al soggetto che si allontana con un sorriso pensando di averla fatta franca. Continua a girare all'interno dei negozi, va infatti nel negozio successivo il soggetto mentre la cassiera informa immediatamente la sicurezza del centro commerciale e anche gli uomini dei servizi segreti. Riescono per fortuna a bloccare il soggetto mentre è nel parcheggio auto e cerca di salire in macchina per darsi la gambe, per scappare via. Il soggetto quindi viene immediatamente fermato e tratto in arresto. Il mall passer è finalmente in arresto. Ma ovviamente la storia non finisce mai con l'arresto, come dovreste ormai ben sapere da tutti i casi di cronaca nera. Di solito la storia inizia con l'arresto ed è proprio anche questo il caso. Quindi il soggetto viene arrestato, controllano immediatamente i suoi documenti ma capiscono che qualcosa non va perché il soggetto ha con sé due documenti due documenti che però non combaciano con l'intestazione della macchina. Immediatamente decidono quindi di procedere quantomeno all'apertura del bagagliaio dell'auto e quando aprono il bagagliaio dell'auto si accorgono che effettivamente è lui la persona che smercia le banconote false e probabilmente è anche lui il falsario per riuscire ad avere tutte queste mazzette di 20 dollari. Un soggetto talmente tanto organizzato che ogni singola mazzetta di 20 dollari aveva sopra di sé il nome di una città. Quindi le prossime destinazioni da colpire per riuscire a lavare questi soldi. I servizi ovviamente capiscono che le due identità che sono presenti al momento dell'arresto non corrispondono minimamente al soggetto e decidono quindi di prendere le impronte digitali. Dopo poco arriva la risposta. Il soggetto che hanno in quel momento arrestato come il mall passer è in realtà James Mitchell de Bartleben. Questo soggetto ha un lunghissimo curriculum di tantissime imprese criminali di tanti tipi soprattutto già nel 1976 aveva già subito un arresto e una condanna per quanto riguarda sempre le banconote false. Ma non avevano collegato De Bartleben al mall passer a causa di un errore di segnalazione perché ritenevano fosse deceduto a causa di un errore nei dati. E quindi hanno trovato il soggetto con le banconote false hanno trovato la sua auto hanno scoperto qual è il suo nome vero bisogna però fermare sempre le organizzazioni a monte. Si decide quindi di iniziare a cercare se a nome suo o a nome di alcune delle identità false che ci sono per questo soggetto se ci sono degli affitti, degli appartamenti, delle abitazioni da andare a perquisire perché l'importante è trovare soprattutto il negativo, la pressa e tutto quello che serve per stampare queste banconote perché altrimenti è inutile fermare un soggetto se un'organizzazione o una possibile organizzazione possono continuare ad agire indisturbati. Scoprono in questo modo che a nome di una delle false identità presenti in macchina al momento dell'arresto c'è effettivamente un appartamento registrato si trova in Alexandria, nello stato della Virginia si recano in questo appartamento e lo analizzano fino nei minimi dettagli fino nelle minime vie di fuga della cucina ma non trovano assolutamente nulla fino a quando non viene l'illuminazione a uno degli agenti dei servizi segreti che decide di guardare nelle pagine gialle perché all'epoca, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 le pagine gialle erano usatissime quindi nel momento in cui ho bisogno di ricordarmi un determinato numero, un determinato contatto magari prendo l'appunto sulle pagine gialle sfoglia quindi questo librone di pagine gialle per cercare dei segni qualche segno evidenziato qualche indirizzo, qualche nome e in questo modo arriva la lettera M dove sotto la lettera magazzini quindi quei grandissimi depositi dove si possono affittare dei magazzini trova una busta una busta che conduce in questo modo i servizi segreti a perquisire un magazzino affittato da un'altra identità di De Verdeleben arrivano così davanti a questo magazzino lo aprono e all'interno scoprono quello su cui stavano puntando perché il mandato che viene firmato viene firmato per reati finanziari per il reato di stampa di moneta falsa e di immissione in circolazione delle banconate false arrivano a questo magazzino lo aprono e con loro enorme soddisfazione trovano sia la stampa che i negativi, i colori, la carta trovano tutto il caso però non è finito anzi è appena iniziato perché gli agenti dei servizi segreti capiscono che qualcosa non torna perché solitamente all'interno di un magazzino di un delinquente di colui che agisce con frodi con truffe di ambito finanziario di ambito economico solitamente si ritrovano spesso solo oggetti di questo ambito invece nel suo caso nel momento in cui aprono il magazzino per loro enorme stupore trovano scatoloni pieni di abbigliamento intimo femminile trovano polaroid di donne che non sono assolutamente messi in pose sexy anzi trovano manette trovano un falso distintivo della polizia con cui lui probabilmente si spacciava per poliziotto trovano fascette di plastica trovano tantissimi materiali di tantissimo tipo ma la cosa più brutta che trovano e questo la capiranno però solo successivamente è una sorta di videoregistratore con a fianco una scatola piena di cassette di audiocassette probabilmente con voci registrate su ognuna di queste cassette c'è un'indicazione solitamente un nome di donna non capendo immediatamente di cosa si trattasse ovviamente i servizi segreti hanno deciso di porre tutto sotto sequestro perché il mandato glielo permetteva nonostante fosse solo ed esclusivamente un mandato per i reati finanziari in tutto parliamo di 144 scatole di prove scientifiche da poter utilizzare in un futuro procedimento nei confronti di Debert e Leben in questo momento pensano di essere forti ormai hanno trovato tutto quello che era necessario per stampare le banconote e decidono di recarsi da Debert e Leben per vedere se magari avrebbe confessato chi era il suo aiutante o i suoi complici vanno quindi da lui e gli dicono ormai per te è finita sappiamo quello che hai fatto ed è proprio quello il momento in cui Debert e Leben si fa tutto serio li guarda dritti negli occhi e dice voi non avete minimamente idea di che cosa ho fatto capiscono a quel punto che forse non hanno a che fare con il tipico delinquente che fa reati finanziari capiscono che forse non è così normale questa storia si recano quindi in ufficio e decidono di ascoltare queste prove audio perché già le polaroid indicavano qualcosa che non andava l'abbigliamento femminile indicava qualcosa che non andava ma forse a questo punto era il caso di ascoltare le audiocassette è così che Greg Mertz uno dei 13 agenti di questo ufficio dei serviti segreti decide di prendere il registratore prende la prima audiocassetta che si ritrova sotto mano la inserisce e inizia ad ascoltare e quello è uno dei momenti che lui ancora oggi dice che non riesce a dimenticare soprattutto per le urla di quella donna le urla che quella donna presente su quell'audiocassetta ha fatto a causa delle torture subite per mano di The Bird e Le Ben la cosa più inquietante che trovano tra tutte le cassette con nomi di donna è un'altra cassetta una cassetta di appunti audio praticamente di The Bird e Le Ben in cui spiega alcuni passaggi di azioni che avrebbe compiuto nel prossimo futuro rispetto a quando è stata registrata quella cassetta questo è un nostro che riguarda i miei obiettivi al primo posto della mia lista di obiettivi c'è quello di procurarmi una nuova identità completa di una storia familiare un curriculum scolastico referenze lavorative patente di guida tessera sanitaria passaporto libretto d'assegni depositi bancari devo affittare un appartamento devo comprare una macchina devo trovarmi un lavoro o almeno uno di facciata il tutto sotto una nuova identità questa nuova identità sarà impossibile da ricollegare a me in ogni circostanza dovrà essere creata in un posto diverso in una città diversa il secondo dei miei obiettivi è quello di comprare una casa preferibilmente comprare un terreno e costruirci la mia casa secondo i miei bisogni e le mie esigenze specifiche la prima esigenza sarebbe quella di un garage con uno o due posti auto per nascondere completamente una macchina e senza finestre in modo che nessuno possa dire se ci sia o meno un'auto un'altra esigenza è quella di avere una zona sotterranea un'area di lavoro che sia nascosta e impossibile da localizzare con metodi ordinari naturalmente avrei bisogno di varie stanze segrete costruite dentro la casa per varie attività così ad esempio nella zona nascosta di lavoro mi servirebbe un torchio e l'attrezzatura necessaria per una camera oscura poi una zona di divertimento una zona di divertimento nascosta che dovrebbe comprendere una prigione per permettermi di avere una vittima di sesso femminile rinchiusa di primaria importanza direi prioritario sarebbe anche la presenza di un inceneritore capace di bruciare a temperature estremamente elevate la cremazione assoluta l'inceneritore potrebbe essere collegato alla parte inferiore del caminetto del salotto al piano superiore e terzo nella mia lista di obiettivi sarebbe Karin oppure prima un'altra vittima di sesso femminile e poi Karin e che dire eventualmente di entrambe contemporaneamente come quarto obiettivo vorrei anche avere abbastanza soldi per restare un anno senza lavorare mi sento di essere stato ingiustamente tormentato tartassato e rifiutato dalla società in particolare dal sistema di giustizia criminale americano che è corrotto fino all'anima allo scopo di riguadagnare un'immagine di me adeguata mi sento obbligato a fare qualcosa per ripristinare il rispetto di me stesso se dovessi protestare contro la società per un guadagno economico adeguato corrispondente al dolore che ho sofferto e non essere preso ciò realizzerebbe il mio obiettivo io ho pagato i miei debiti ora mi appresto a riscuotere sadismo il desiderio di infliggere dolore agli altri non è l'essenza del sadismo l'impulso centrale è esercitare il completo dominio su un'altra persona far diventare lui, lei un oggetto privo di volontà da sottomettere per diventare il padrone assoluto su di lei diventare il suo dio fare con lei quello che si desidera umiliarla renderla schiava questi sono i mezzi per raggiungere l'obiettivo e il più grande mezzo di tutti è farla soffrire perché non esiste un potere più grande da esercitare sopra un'altra persona di quello di infliggerle dolore di forzarla a subire facendola soffrire senza che lei sia capace di difendersi il piacere nella completa dominazione su di un'altra persona è la vera essenza dell'impulso sadico le cose in cui credo sono troppo vecchio brutto povero per attrarre e scopare ragazze giovani e carine perché Karin mi ha respinto sono meno di una persona convinzione irrazionale allora è chiaro che tutte le ragazze carine come Karin mi respingeranno io odio le donne mia madre Karin rinforza quest'odio solo perché sto pensando di uccidere e voglio farlo non significa che devo farlo ma posso prepararmi per questo posso essere pronto per questo solo nel caso in cui si presentasse proprio l'opportunità ogni cosa deve essere perfetta ma non voglio illudermi di questo non sto realmente per farlo senza che le condizioni siano perfette l'attore segue il copione dopo aver ascoltato ovviamente vi rendete conto che i servizi segreti hanno capito di avere a che fare probabilmente con uno dei peggiori serial killer della storia siamo nel 1983 Ted Bundy è stato arrestato nel 1978 sicuramente capiscono che a piede libero non esisteva solamente ed esclusivamente Ted Bundy ma che sicuramente c'erano anche altri a piede libero ad agire anche in modo molto simile a Ted decidono quindi di chiedere l'aiuto delle forze di polizia locali ma anche dell'FBI ancora non era nato il BSU quindi Behavioral Sciences Unit non era ancora nata l'unità di analisi del comportamento di analisi comportamentale ma avevano comunque agenti tra virgolette specializzati scusate il tra virgolette prometto che non esagero stavolta che potessero intervenire in casi del genere vengono quindi inviati presso l'ufficio dei servizi segreti due agenti in particolare che sono Kathy Kaiser una delle primissime donne all'interno dell'FBI e Joe McKellichini loro due vengono inviati per seguire questo caso insieme ai servizi segreti ma i servizi segreti avevano già fatto tutto quello che riuscivano e che avrebbero potuto fare che era in loro potere per identificare queste donne avevano redatto una sorta di scheda di schedario con tutte le informazioni delle donne quindi hanno messo insieme le foto di 50 donne che si vedevano in viso hanno messo insieme alcuni nomi che non sanno ovviamente a chi sono riconducibili ma hanno all'incirca 50 foto di donne hanno i nomi presenti sulle audiocassette alcuni dettagli all'interno degli stessi diari tenuti da Debar Deleben e che tutto questo lo inviano a tutte le forze di polizia locali per cercare di stabilire se questo soggetto mentre colpiva il centro commerciale derubando di banconotte da 20 dollari avesse anche agito nei confronti delle donne questo anche con l'aiuto dei due agenti dell'FBI ma tra i due agenti dell'FBI la donna soprattutto Cathy Kaiser riesce a identificare a vista ricordandosi del caso specifico di una donna in particolare Laurie Jensen Laurie Jensen la sera del primo giugno del 1979 stava camminando tranquilla verso casa dopo aver lavorato e aver fatto il suo turno come cassiera in un negozio poco distante mentre torna verso casa viene fermata da un uomo che dice di essere un agente della polizia la fa salire in auto le chiede un documento di identità per verificare le sue generalità perché le dice che poco distante c'era stata una rapina in un negozio e che quindi lei sarebbe sospettabile ma mentre lei cerca di mettere a punto qualche pensiero qualche idea lui riesce ad ammanettarla e a incappucciarla per evitare che lei vedesse il tragitto della strada dove sarebbe stata portata in questo modo percorrono circa due ore di macchina per andare in uno dei tantissimi appartamenti intestati a De Bordeleben e la tiene sequestrata per 24 ore 24 ore di torture di violenze di violenze di stampo sadico di sadomasochismo perché le viene effettuato le vengono effettuati diversi tipi di torture sadiche e sessuali non mi soffermerò su quali e dopo 24 ore la libera in una zona isolata della città da dove era stata rapita per questo caso era intervenuto l'fbi a causa del falso distintivo utilizzato dal soggetto ignoto ma l'fbi non era riuscita ad arrivare a identificare il soggetto fino a quando nel 1983 non sono intervenuti i servizi segreti che hanno trovato questo magazzino non c'è solo questo caso identificato grazie agli agenti dell'fbi ci sono in realtà anche altri casi tra cui soprattutto quello di jean mcfoll uccisa nel 1982 agente immobiliare uccisa durante un tour guidato di case da affittare da vendere a un certo dottor zack dottor zack un uomo di bella presenza che si era presentato come sposato e con figli in cerca di una casa per andare a trasferirsi a Bossier City in Louisiana lei quindi cerca di empatizzare con lui per cercare di riuscire a vendere una casa per cercare di soddisfare le sue richieste e le sue esigenze come cliente lui però in realtà non ha intenzione di comprare la casa lui è arrivato in quella città esattamente con l'intenzione di commettere qualche illecito o qualche delitto di fatti nelle ultime case nell'ultima casa che visita insieme a questa donna questo agente immobiliare la porta fino in soffitta in teoria per visitarla nella pratica la impicca a una delle travi del soffitto la coltella e poi come ultimo segno di sfregio nei confronti di questa donna pulisce il coltello sulla camicetta della donna ma non è finita qui perché per questo caso lui verrà identificato successivamente durante il processo dalla donna non durante il processo verrà però identificato successivamente dalla donna che aveva il band and breakfast la pensione dove il cosiddetto dottor Zack che altro non era che il debor delle ben si è fermato per quella notte si è fermato parcheggiando molto lontano per evitare che la sua macchina venisse riconosciuta ma aveva un segno molto particolare un anello d'oro massiccio molto grande con una pietra rossa molto grande anche quella questo anello viene ritrovato all'interno del magazzino De Verdeleben aveva preso degli appunti su alcuni dei fogli sulla personalità che avrebbe dovuto avere questo suo personaggio inventato addirittura arrivando a esercitarsi con la firma ma questo è solo uno dei tantissimi reati e delitti che vengono segnalati ai servizi segreti e agli agenti dell'FBI che seguono il caso di delitti e di reati riconducibili soprattutto violenti riconducibili a De Verdeleben ce ne sono tanti perché abbiamo Lucy Alexander che il 3 settembre del 78 viene rapita e abusata più volte poi rilasciata in un'area isolata cioè Elizabeth Mason 4 febbraio del 79 anche lei agenti immobiliari rapita e strangolata fino a quasi farle perdere i sensi strangolata più volte tra l'altro e alla fine di tutte queste torture lui le fa sbattere la testa diverse volte fino a quando lei non perde coscienza e lui la abbandona pensando che fosse praticamente deceduta in realtà la donna riesce a sopravvivere il primo giugno del 79 il caso di Laurie Jensen di cui vi dicevo il primo novembre del 1980 Diane Overton lei però riesce fortunatamente a reagire fisicamente a opporre resistenza e a scappare quindi riesce a fuggire abbiamo poi il 12 novembre del 1980 Maria Santini che viene denudata incaprettata fotografata e poi abbandonata in un bosco il 12 aprile dell'82 Jean McFall che è l'agente immobiliare di Bossier City in Louisiana di cui vi dicevo c'è poi il caso di Joe Rapini e di David Starr che avviene a Gris nello stato di New York il 13 aprile dell'83 praticamente in questo caso i due stavano uscendo dal lavoro stavano tornando a casa quando Rapini viene rapito da Debert Leben viene portato in un posto sicuro per lui chiede un riscatto di 70.000 dollari David Starr ne paga solamente la metà il riscatto verrà poi preso da una donna verrà preso in consegna da una donna bionda truccata in modo molto pesante ma purtroppo non verrà liberato l'ostaggio verrà ritrovato deceduto con un colpo di pistola alla testa un modus operandi veramente molto diverso rispetto al suo solito agire soprattutto nei confronti delle donne perché in questo caso ha rapito un uomo però sono convinti che fosse opera sua dato che teneva una sorta di diario di tutte quelle che erano le sue entrate economiche finanziarie e c'è in corrispondenza di questo rapimento di questo sequestro finito male c'è esattamente un'entrata di 35.000 dollari ma cosa possiamo dire di questi casi possiamo dire che in realtà Debert Leben alla fine chiede di parlare con la polizia chiede di parlare con i servizi segreti e con gli uomini dell'FBI si presentano in carcere da lui pensando che forse avrebbe confessato che forse avrebbe detto su qualcosa sulle vittime su dove erano i corpi su cosa era effettivamente successo in realtà Debert Leben 126 di quoziente intellettivo valutato all'epoca in questo modo li guarda con aria di sfida e dice lo sapete è vero che tutto quello che voi avete preso all'interno del magazzino non potete utilizzarlo contro di me Debert Leben come vi dicevo 126 di quoziente intellettivo è una persona molto intelligente e conosce anche il sistema penale americano e sa che nel momento in cui c'è un mandato di perquisizione per un reato tutto quello che si ottiene ma che non riguarda quel determinato reato non può assolutamente essere utilizzato contro il cliente vi faccio un esempio se sospettano ad esempio che io sia non so un trafficante di sostanze stupefacenti mi fermano per strada per farmi una perquisizione fisica per cercare se ci sono dei se ho addosso degli stupefacenti o qualcosa del genere ma trovano qualcos'altro che mi può collegare ad un reato di altro tipo non a procedimento non a procedimento federale o grave in quel caso loro non possono utilizzare quello che trovano nei miei confronti quindi De Bar de Le Ben forte di questo principio della normativa americana decide di fare ricorso contro tutto il castello di carte che stavano costruendo nei suoi confronti si recano quindi accusa e difesa davanti al giudice e il giudice ascolta tutte quelle che sono le dolianze del De Bar de Le Ben perché dovete sapere che De Bar de Le Ben si è difeso da solo si difende da solo il giudice dice che effettivamente si ha ragione è una persona molto intelligente sa come funziona la giustizia ma che siccome in questo caso non si parla di un reato minore che può essere tra virgolette anche che dovrebbe essere ignorato visto il mandato di perquisizione il tipo di mandato di perquisizione che c'era ma che siccome in questo caso tutto quello che viene ritrovato all'interno del magazzino lascia pensare a un reato molto più grave anzi a una serie di reati molto più gravi queste prove potranno essere utilizzate contro di lui in un'aula di tribunale si arriva quindi al processo De Bar de Le Ben che si difende da solo dall'altra parte c'è l'accusa sul bancone dei testimoni ci sono le vittime le vittime che devono subire una seconda violenza perché devono essere contro interrogate da quella che è la difesa quindi dal loro stesso aguzzino riesce comunque l'accusa nonostante tutte le difficoltà del caso della difficoltà per quanto riguarda le prove della difficoltà di identificare le vittime riuscire a convincerle a testimoniare in un'aula di tribunale nei confronti del loro aggressore del loro aguzzino perché ricordiamoci che noi donne nel momento in cui veniamo violentate veniamo aggredite rapite sequestrate nove volte su dieci è anche colpa nostra perché la società è questo che pensa e vi invito ad andare a leggere dei vari casi anche recenti italiani di queste sentenze perché veramente molte sono da brividi perché spesso le domande che noi donne riceviamo in tribunale e anche all'epoca venivano ricevute in tribunale sono ma lei quel giorno si è vestita in modo appariscente ma lei quel giorno aveva un rossetto ma lei quella mattina ha cercato un metodo anticoncezionale prima di essere stuprata ma lei per caso quella mattina aveva una congiunzione astrale che l'ha portata a uscire di casa truccata bene quindi non tutte le vittime si sono dette disposte di andare in tribunale a testimoniare nei confronti di Debar Dele Ben Laurie Jensen però lo ha fatto lo ha fatto affrontando le sue paure più oscure e soprattutto riuscendo a testimoniare con nervi saldi senza mai perdere la testa proprio in tutti i sensi nei confronti del suo aguzzino alla fine Debar Dele Ben viene condannato a 375 anni di carcere non viene condannato per omicidio viene condannato solo per varie violenze per i reati federali per i reati fiscali per i reati di valuta falsa per i reati delle banconote false e in questo modo viene condannato a 375 anni di carcere perché 375 anni di carcere? perché sono stati valutati purtroppo solo i reati tra virgolette per così dire minori meno gravi ed è stato valutato che lui sarebbe uscito fuori sulla parola solo verso i circa 100 anni di età quindi sarebbe stato praticamente impossibile arrivare a 100 anni e riuscire poi a uscire quantomeno sulla parola hanno valutato che dei processi per gli omicidi delle donne che sono state identificate che sono state trovate sarebbe stato del tempo perso del tempo perso e soldi dei contribuenti persi perché purtroppo sarebbe stato molto difficile riuscire a dimostrare la colpa di De Bardelben per questi reati perché è stato molto furbo è stato molto bravo ha colpito città diverse in modo diverso sequestrando contattiche e tecniche diverse e quindi probabilmente l'avrebbe fatta franca e lo svolgimento di processi in diverse aule di tribunale avrebbe portato solo a un rischio di evasione così come era successo con Ted Bundy e a proposito di Ted Bundy perché ve lo cito perché De Bardelben nel momento in cui è finito definitivamente in carcere per scontare i suoi 375 anni di condanna si è messo in contatto con ovviamente diversi serial killer tra cui Ted Bundy Ted Bundy che anche lui come De Bardelben si è difeso da solo era riuscito a evadere riusciva ad avvicinare le donne in modi sempre più diversi sempre più originali sempre più anche malvagi nel uccidere queste povere donne che lui riusciva a catturare ma De Bardelben viene rappresentato con una personalità narcisistica e con diversi tratti anche di disturbo della personalità ma sapete che a differenza di Ted Bundy lui è stato molto più furbo ed è stato molto più narcisistico rispetto a lui perché mentre Ted Bundy si è vantato ha dato delle risposte alle famiglie ha cercato di permettere alle famiglie di mettere una conclusione una croce diciamo su quel determinato caso su quella persona cara persa uccisa deceduta De Bardelben non lo ha fatto non ha mai permesso alle famiglie di avere una risposta di avere una conclusione diciamo di questo ciclo della vita non ha mai fatto ritrovare i cadaveri non ha mai confessato e ha sempre mantenuto per sé le informazioni non ha mai voluto dire assolutamente nulla delle proprie vittime ma come fa una persona ad arrivare ad essere così malvagia nel 1983 a soli 43 anni ad arrivare fino a questi livelli di sadismo James Mitchell De Bardelben nasce il 20 marzo del 1940 a Little Rock Little Rock in Arkansas è figlio di un militare di una donna che fa la casalinga una famiglia che è sempre in spostamento sempre in movimento con lui una sorella più grande e un fratello più piccolo è una famiglia in realtà che è un incidente ferroviario pronto a esplodere definitivamente perché la madre alcolizzata probabilmente beveva anche durante la gravidanza dei tre figli è una donna con seri problemi non solo di alcolismo ma anche di tipo relazionale di tipo educativo nei confronti dei figli perché li molesta fisicamente diverse volte inteso come violenza pura sadica immotivata nei confronti dei figli la stessa cosa avviene anche per mano del padre padre che si diverte a punire i suoi figli tenendogli la testa sott'acqua un'infanzia di violenza e di sadismo che vanno a degenerare fino a quando lui non decide di prendere in mano la situazione e da vittima passare ad Aguzzino ed è quello il momento in cui all'interno della famiglia è lui che diventa il soggetto pericoloso soggetto pericoloso che più volte viene arrestato per varie problematiche vari reati fino a quando nel 1964 i genitori non chiedono l'intervento con un ricovero psichiatrico per De Bar de Le Ben per capire che cosa si poteva fare perché i genitori riferiscono alla polizia di aver paura di rimanere uccisi una di queste volte per mano del figlio viene portato per un'analisi psichiatrica in una clinica dove diciamo arrivano a diagnosticargli un disturbo antisociale con tratti di sociopatia viene diagnosticato questo si sceglie di non procedere ad un aiuto con un percorso di psicoterapia ma il consiglio dei medici degli psichiatri ovviamente in quel momento l'unica cosa che possono dare come consiglio è di prendere il soggetto metterlo in carcere e buttare via immediatamente la chiave cosa che ovviamente come immaginate non è stata fatta infatti dal 1964 quindi dai 24 anni del De Bar de Le Ben inizia anche lì un'ulteriore degenerazione del soggetto degenerazione che arriva ad avere diversi matrimoni alle spalle non è violento solo nei confronti della prima moglie mentre in realtà diventa pesantemente violento nei confronti delle mogli successive avute riesce ad essere violento nei confronti delle amanti riesce ad essere violento nei confronti di tutti i guanti viene arrestato effettivamente nel 1976 per come falsario e anche in quel caso individuano tutte le attrezzature per la stampa ma siccome confessa e riesce a patteggiare non viene condannato a una pena molto più grande dal 1978 al 1983 c'è però un diciamo una sorta di buco tutto quello che avviene tra il 1978 e il 1983 data del momento dell'arresto il 25 di maggio viene tutto ricostruito solo ed esclusivamente in base al lavoro dei servizi segreti nel seguire l'operato di questo mall passer nell'aver messo e incrociato tutti i dati con le fotografie delle donne non identificate con le audiocassette con l'abbigliamento intimo che poteva risalire ad alcune di queste donne la cosa che però non combacia è che le audiocassette sono all'incirca una cinquantina non tutte corrispondono probabilmente alle almeno più di cinquanta donne fotografate in viso più quelle che vengono fotografate solo di corpo e in più ci sono centinaia di capi di intimo femminile che può essere stato rubato ma gli agenti di servizi segreti non pensano fosse abbigliamento in realtà rubato il problema è che parliamo di un soggetto che è cresciuto nella violenza che è cresciuto senza relazioni sociali con i propri pari come vi dicevo anche l'altra volta con Mattei Ciurco un conto è avere il piacere di rimanere ogni tanto in solitudine piacere che non dovrebbe esserci in un bambino o in un giovanissimo adolescente però ci può stare che ogni tanto ci sia un bisogno di isolamento ma non è normale che il soggetto rimanga in isolamento per così tanto tempo senza contatti con i propri pari senza amicizie senza ad esempio una donna da amare o con cui sposarsi come era avvenuto con Mattei Ciurco mentre in questo caso era avvenuto esattamente l'incontrario perché il suo bisogno di manifestare il controllo e il sadismo era arrivato al diciamo al culmine anche addosso alle mogli che sono praticamente tutte scappate per cercare di mettersi in salvo parliamo di un soggetto che criminologi psicologi e psichiatri hanno definito lo hanno analizzato e lo hanno sono riuscite a definirlo persino peggiore rispetto a quelle che erano solo ed esclusivamente delle idee remote del marchese de Sade lo definiscono sostanzialmente come un sociopatico come una persona con un disturbo narcisistico estremo della personalità che racchiuda all'interno di sé tutti quei tratti di questi disturbi i tratti presenti nel DSM 3R ma che addirittura è un soggetto così tanto particolare è anomalo da venire citato all'interno del DSM 4 che oggi non è più in uso oggi il DSM in uso è il DSM 5 ma se capite anche voi che essere citati all'interno di un manuale diagnostico di disturbi mentali essere citati come caso particolare vuol dire che forse siete un soggetto molto particolare lui però non come vi dicevo prima non ha mai confessato non ha mai dato la possibilità alle famiglie di ottenere i cadaveri di quelle donne che furono probabilmente uccise non ha mai dato la soddisfazione di confessare di riferire i nomi e le identità delle donne non è mai stato condannato per moltissimi degli omicidi sicuramente riconducibili a lui che sono almeno tre e questo per evitare che lui potesse spostarsi di stato in stato durante i processi e riuscisse magari anche ad evadere anche perché parliamo di un soggetto particolarmente pericoloso lui è deceduto nel 2011 ma ancora oggi come potete vedere in pochissimi lo citano in pochissimi ne parlano perché è un soggetto che è stato condannato in realtà primariamente per reati finanziari e reati economici ma che in realtà probabilmente magari lo scopriremo tra 50 anni in chissà quale altro magazzino con un diario nascosto che probabilmente la conta delle sue vittime sicuramente o almeno per quello che penso anche io come altri criminologi parliamo di almeno secondo me una cinquantina di vittime perché ricordiamoci che lui è nato nel 1940 il periodo di inizio solitamente dell'azione omicidaria è tra i 25 e i 30 anni e lui è stato catturato solo nel 1943 all'età di 43 anni e soprattutto i nastri la cinquantina di nastri circa 50 foto di donne riconoscibili in viso e l'abbigliamento risalgono solo ed esclusivamente al periodo dal 1978 79 fino al 1983 quindi parliamo solo ed esclusivamente di un periodo di 5 anni immaginate tutti gli altri anni che mancano diciamo all'appello per riuscire a trovare la quadra della situazione spero di non avervi troppo scioccati intanto vi lascio riflettere su questo caso intanto vi ringrazio per aver ascoltato fino in fondo e vi auguro una buona serata ci vediamo alla prossima ciao ciao